Ragazzi prima che inizi il video vi devo dire una cosa molto importante Durante il video ho detto che avrei fatto una cubo normale Però poi è degenerata perché ho voluto trollare Marco La cosa bella ragazzi è che lui tuttora non sa che io l'ho trollato Quindi guardatevi il video ve lo lascio bello uncut Questo qui sarà uno dei pochi video della settimana, del mese che vi lascio un uncut Perché voglio lasciarvi tutte le sue reazioni veritiere Nel quale vi faccio vedere quello che succede perché è qualcosa di veramente devastante Ad ogni modo vi chiedo di lasciare un like se volete che proverò a trollare qualcun altro nei prossimi giorni Perché io ho già in mente qualcosa di veramente interessante Ad ogni modo ragazzi al primo link in descrizione trovate anche il secondo canale Mi raccomando andatevi ad iscrivere perché torneranno contenuti davvero davvero devastanti Come bere forse una bibita con del riso dentro Bene a tutti i buoni sono Arci e benvenuti in questo nuovo video delle cubo del sabato Che non è sabato ne farò due questa settimana perché ho voglia di fare delle cubo due volte a settimana Anche perché ragazzi come avete visto ieri non ho caricato la vanilla e mi sono preso una settimana di pausa Comunque ragazzi siamo in compagni Marco, ciao Marco benvenuti in questo nuovo video E niente ragazzi dovevamo fare una egg wars Cioè dovevamo fare una cubo però erano vuote E poi mi ha detto facciamo una egg wars Perché le egg wars ci stanno, fare le egg wars ci sta Però le egg wars laggavano quindi non è più dove fare le egg wars Quindi siamo andati sulle cubo perché c'era gente quindi siamo sulle cubo Ciao Ok, allora devi sapere una cosa Ok, che qua dobbiamo per forza vincere la partita Quindi teniamoci per ultime le due facciamo start Guarda, a me non abbiamo sei secondi di anticipo Tu sei carico, che colore sei? Sono veramente carico io Marco è l'arancione Sei vicino a me? Oh le Sei vicino No, non sei vicino a me mi sa Siamo lontani vecchio Mi sa che sei lontani sì Porco due Due TNT Due TNT Due TNT da lanciare No zio, allora va bene, va bene, va bene Allora facciamo una cosa Tu che cosa stai trovando di bello Oh minchia zio Ender per le piccone Ciao giallo Io non ho trovato niente Lo salutiamo il giallo che è stato comunque Lo salutiamo il giallo che ci segue comunque dalla zingonia Dalla zingonia È stato un valoroso cavaliere Un valoroso eroe Un valoroso È stato tutto Quei ragazzi è stato tutto Il giallo eroe di battaglia di Napoletano Allora ti dico subito una cosa Che c'è la possibilità Hai la possibilità Con l'aggiornamento che hanno fatto di trovare la bedrock Ti dico solo questo Non le trovi Pazzesco Non le trovi in quantità esagerate Ti do un consiglio Se tu vuoi toglierla Perché a me capita sempre contro il tizio Chi trova la bedrock e la lava Per togliere la bedrock Devi metterli i lucky block sopra E continuare ad aprirli E spammarli Semplicemente così Così Cioè proprio Sì perché magari ti spona Non so l'albero Le cose che ti tolgono il blocco Comunque Io sono dal giallo Sono dal giallo Sono buggato zio Mi sa che crasho Mi sa che crasho No se crash ti giuro Tiro giù una bestemmia Che Dio mi senti Mi fa proprio clap clap le mani È un po' cattiva questa cosa che hai detto Però vabbè ci sta Allora io sto spaccando Sto spaccando il giallo Il giallo Il giallo Il giallo Ok aspetta Fammi salire qua Così Così Grazie zio Ok sono dal giallo Mi sa che il giallo È la sua fine Quindi ciao Grazie giallo Ciao moon home Dalla lapponia No dalla casa sulla luna Moon home Casa sulla luna Capito C'era E gheresun Osti Comunque niente Hanno aggiunto anche altre cose Però non ricordo bene che cosa Cosa abbiano aggiunto Quindi vabbè sti cazzi Io non trovo niente Perché tanto sono andato a care un po' tutti Ciao giallo Ciao giallo Sei stato un valoroso Così proprio rascio aggressivo Sì Io adesso però vado dell'arancio No l'arancio sei te Vado dal nero Vado dal nero Vado dal nero raga Vado dal nero Io non ho niente con cui lasciare Non hai niente? Niente Ma come niente? Niente te lo giuro Ok va bene Che questione posso fare? Allora vado Vado Vato Fato Fato No il nero no No il nero lo lasciamo stare Vado quasi quasi vado da doge Vado da doge? Vado da doge? Sì O magari vengo da te Vengo a farti un gire Tanto io ho sette enderpearl Come ti permetti A fare un gire? Ho sette enderpearl Ho sette Sette enderpearl Ti giuro No no Perché? No intendo Se vieni qua ti ammazzo io zio Ma perché scusa? Cosa ho trovato? Piccone Piccone Ma come piccone? Hai già trovato il piccone scusa Vecchio A parte che l'ho trovato prima Infatti A parte che l'ho trovato prima Sono da te Ciao Vattene 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 Vieni qua Vieni qua Vieni Dove sei? Ciao DeMarc Sono qua Sono qua vecchio Io scappo Ma perché devi scappare E devi fare il bimbo Merda Ho preso speed Ho preso speed Ho preso speed No 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 Ciao No zio Volevi eh Volevi eh Che sbatta Oh No zio no Prima che pensavo fosse la bedrock Che invece era un'altra cosa Vabbè Sti cazzo Sei impazzito No 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 Ma guarda che ti capita easy easy la bedrock Quindi guarda che probabilmente ce l'hai anche te Non te ne sei accorto Non è ancora successo No 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 Ok Oh c'è il mio Perché ha ammazzato il Il mignodio No Dovakin di merda Dovakin di merda Dovakin di bedrock Ma veramente Ti sono uscite dove Te l'ho in mano Anzi le sto per piazzare proprio ora ora vecchio Stai trollando? No te lo giuro Ma sono rarissime Cioè prima scherzavo come dicevo che non era raro 17 blocchi di bedrock Che palle raga La trovate veramente Io comunque avevo trovato un arco del tp due secondi fa Però il mio grandissimo Dovakin Quel coglione Perché tu sei una merda Dovakin Tu sei uno schifo Fai schifo ok Sei una merda Tipo Quanto è forte Dovakin È troppo forte È fortissimo Dovakin Ok È crashato il green Ok arco del tp eccolo qua Ok me ne posso andare subito dal blu Vado subito dal blu Ciao blu Come stai blu Oh Sei impazzito? Non posso dirti cosa gli abbia trovato Vabbè drocche? Sì 17 Ma credo sia Credo sia normale Troverne 17 Cioè 17 Eh anche per me Mi sa di zii Allora vado No addio Sono caduto Vado però da arus Ah no arusan 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 è tipo il nome di un Di un pilota di cricket No arusan è il fratello di arusan No è uno che gioca a cricket Semplicemente Ah Perché? Cricket Non lo so mi piace dire cricket Mi sa che sta venendo da me arusan Perché ha visto che sto Cioè sta mappa è illeg Questa mappa è illegale Sai perché è illegale? Perché mi ha ucciso Stardo Cioè più che altro siamo lontanissimi Bianco Rosso Arusan Matsyoutube Matsyoutube raga Sapete chi è? È Mats Quello di Di dark raga Mats Il figlio Quello di Purtroppo tu non puoi capire Non l'ho mai visto Tu non hai visto dark Ti rendi conto? Ti rendi conto che schifo Cioè io faccio proprio schifo Come persona Ragazzi Marco una volta era uno Che si guardava con me Un sacco di serie E poi ha detto No Io non le posso più guardare Poi diventa una persona seria E non posso guardare serie Se sono serie Ok Sono già il viola Ti uccido di nuovo viola Cazzo Io ti uccido viola Come cazzo faccio a tornare su io? Devo fare una cosa Madonna raga Ma cosa sto combinando? Ok Sono qua Vai Ma porco due Ma cosa ho combinato? Cosa hai combinato vecchio? Noi mi sono fatto Ho buttato le cose Nella mia isola Mi sono uscite Tutto qua Non ci sto bene Basta I cani Ma Tommy Troppi cani Ma Tommy Si è aprito il pepo Si è aprito il pepo Della situazione Ma non so se hai visto Human Come sfondo Su mech Pepo Ragazzi tutti quanti I'm going to mettere Un piccolo pepo Come sfondo Un piccolo sbuccio No 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 C'è un viola da me vecchio Se se zio Se 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 34 bed E da te il viola? Ho perso Come hai perso? Eh si vecchio ho perso Ma no non hai perso zio Ma va ci mancherà Adesso vado io Quanto ti manca? Pochissimo Quanto hai? Cerca di ucciderlo zio Come lo uccido? Non lo so però uccidilo Uccidilo Dai uccidilo Ho perso Ho perso Ho perso Non è vero Non ho perso un cazzo L'ho ucciso Ho ucciso Arusan No c'è un altro qua dai ma ce ne sono due qua No zio non mi dire così Chi è che c'è da te? Chi è che c'è da te? Guarda con la bedrock scusa E un attimo figa sono tutti qua Ma scusa Sono qua sopra io Ok sono venuto su da te Ok sono venuto su da te zio Dove sei? Come faccio sognare la sta bedrock? Ok dove è che sono? No sono uccisi tutti zio Però c'è sbattone No infatti Non ho blocchi personale Ah guarda che non lag con le slab Perfetto Io però intanto devo farti qualcosa Non posso venire qua a caso Ma come ti permetti? Ma come? È morto soffocato in un blocco Demark fai screen No non può far screen Basta L'avete provato a uccidere? Avete provato a uccidere? Sì Sì finalmente raga Ho trovato una cosa che mi serviva No aspetta non questo Facciamo così Il cervello Facciamo così Ye 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 E facciamo anche così Sbam Ok yes Ok E mettiamo questo qua in diamante qua Allora adesso ragazzi Inizierà il vero bello di questo video Anche perché Almeno tutta questa bedrock Io posso parlare con la bedrock Quindi Mamma che giocatore pazzesco Marci Allora tu la bedrock dove l'hai messa? Non l'ho messa io Non l'ho messa Sì che ce l'hai Te l'ho visto che l'hai messa Ma non è vero È illusione ottica Io ne ho 34 qua Se ne trovassi tipo altri 16 Sette Sarebbe tipo Branco Branco te ne puoi andare? Madonna quanto è fastidioso Mamma mia No ma Sono fighi no Perché ci danno un sacco una mano Però Se si tippano sopra Mentre Mentre bardo Anche no Cioè capisci Anche no Comunque ne ho messi già 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 34 Tombola 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 Cazzo Non sacco bene 28 29 30 Perché c'è un mega kiburro? Ok 31 31 31 32 33 34 Ok Puoi praticamente abbardare quasi tutto il nucleo con 34 Però li ho finiti purtroppo Dove sei te adesso? Sono dal Da un bomber Che sta provando a fare un po' troppo il bomber con me Allora io adesso Marco faccio una cosa Vengo da te e ti ammazzo No vecchio non ci devi provare Se no ti ammazzo io Aspetta A parte che Ah ti dico un'altra cosa Ti può capitare il destructo infinito Ti dico solo questo Ma come? Sì perché se tu lo buggi Se tu lo metti nella crafting table E ci metti un altro arco con il destructo di fianco Lo buggi Non ti da l'arco Ma che è un spettacolo Quindi boh Io sono nella tua isola adesso Pierre Games regala sempre emozioni Emozioni del mondo Tu ce l'hai un destructo per caso? No no io non ho niente Ma te dove sei tutto ciò? Appena ucciso il rosso Ok spada Oh la spada ho trovato E dai Wow 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 Dove sei? Dal bianco Ma ho ucciso anche il bianco No zio ti prego Voglio trovare il destructo e usarlo contro di te Ma come ti permetti? Miche se riesco a farlo infinito ti distruggo l'isola zio Dai però ci hai dieci Dai E devo trovarlo nel destructo prima Non è così facile Sempre Ste scuse qua Non c'è il destructo A parte la tua isola Già sta andando fuori Dalle bolle Guarda che casino No dodge Che no Non ci devi provare Dodge no Sei morto? Vasi L'importante è che tu non muoia Ecco perché essendo che sto usando io la tua isola Non vorrei Un po' dei casino Perché sto usando la mia isola? Perché voglio usarla qua Ho eliminato Siamo io e te No c'è mazzi youtube No ma c'è ancora Mazzi youtube Ma un destructino Ma un mega destructino Non lo troviamo Ma il destructino non lo troviamo veramente Ma tu sei il verde Ma dove sei? No zio non puoi venire da me Ma come no? No se venire da me mi incazzo Dai Ti ingazzo? Lasciami stare Cioè se vieni non uccidermi Perché sennò ti uccido io Perché sono nella tua isola E io ho meno roba di te Ma dove sta scritta sta cosa? Scusatemi Sta legge divina Che io non posso Non lo so Io devo trovare un destructo Ok? Non ci vuole tanto Io ho trovato un destructo Ok? Non è difficile trovare un destructo Ma dove sei? Perché sei nella mia isola? Sono nella tua isola io Tu dove sei? Ma perché la mia isola è una merda epica? Mi sono messo a aprire l'acchi E blocchi da te Ma fa schifo Ok Ma io non ti vedo Mi sono trasfitto dai rossi Ma figa ma posso avere un minion di marci Nella mia isola? Ma cos'è sta l'isola da ricordare? Mi sono trasfitto dai rossi Ma c'ho un'isola di mongoloidi C'ho un bob Un minion di marci Dai mi serve l'ultimo destructo Raga ne abbiamo Abbiamo un destructo C'è ne serve un altro Con due destructo Facciamo fuori l'isola di marco C'è la lava Ho trovato la lava zio Ho trovato la lava Ho trovato la lava Se trovassi anche tipo Magari un altro Sai quello Quello bello no? Sai cos'è quello bello? Sì lui Quella ossidiana Quella bedrock Selvatica Io voglio la bedrock selvatica Ok? Ma il destructo Non si trova più facilmente L'ho trovato Cheat Raga È alla fine per The Mark Mi sa Dici? Che non me lo dà? Raga non mi dà il destructo Raga è qua per terra Non me lo dà Raga è qua non me lo No sta raga non il server Mi sa Sì sono crashato No si è bloccato il server vecchio No raga no adesso no Dove sei? Sono dei rossi Con il destructo infinito Ma come col destructo infinito? Sì Trattato l'ho buggato Ma cosa vuol dire? Voglio venire lì a vederlo Ma non ci credo mai nella vita Guardami No non te lo fai Non te lo fai Perché tu lo usi contro di me No no te lo giuro Non lo uso per te No no se vuoi Guarda mi sono dall'altra parte Guardami Mi stai guardando? Sì Guarda Sbem Sbem Ma su Che cazzo vuol dire? Te la togli all'ossidiana No no mi stai di no No la bedra volevo dire Vabbè vado a distrugerti Perché distruggermi scusa? Perché c'è il coso infinito Non vale Scusa un attimo Dove sei te? Dove sono? Dove non sono Cosa? Ma come è successo? Ma tu stavi volando zio? Col mover stavo volando Zio stavi volando T'ho visto? Che cazzo citti? Avevo il doppio mover Non ci credo mai nella vita No raga l'ho visto volare Avevo il doppio mover Devo volare? Faccio direttamente così No zio non volare Dai che palle che sei Dove sei? Verdina No io vado dove nella tua isola adesso Dove sei merda? Dove sei tu? Io sono nella tua isola Non ci sei nella mia isola zio Sono lì Cosa ne sai te Che non sono nella tua isola? Sono lì Sono qua sopra il mio nucleo Sì 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 sicuro Non c'è tipo una Una zona diossidiana lì Si è spaccato le gambe Cioè si è spaccato le gambe Basta così distratto Nooo Vi ammazzo un giorno Zio io comunque ti ho combinato una cosa Se riesco Io sono nella tua isola Sono cercato di tolerti la bedrock Che hai al centro Tu non mi vedi Sono scivitatissimo No l'antimateria Non si capisce niente Perché c'è l'isola così distrutta Tu non hai idea cosa io stia facendo Ho preso l'invisibilità Ma dove sei? Sto vicino C'è Dovakin No Dovakin no Mollami Devo riuscire a trovare quella bedrock zio Ma mica ma c'hai il distracto infinito Eh capito io voglio tolerti la bedrock Col distracto Basta ma che bordello Non col distracto zio Se ti metti un lucky block ti pot... Si si è tolto Si è tolto Si è tolto No c'è il mondo per... No non posso più sponare Fra? Fra non posso più sponare Fra? Dai continui a cadere il vuoto E l'ho creata io sta cosa Oh mio dio sto malo Oh mio dio Oh mio dio Te lo chiudo in cui Dove cazzo hai il buco però adesso? Non so dove sia Dio non so del buco Dove sei merda Te dove sei? Non sono Oh che bello Guarda che bello Marco non esiste Se stai venendo a me Mi cazzo Io sto tornando a me Mi ammazzo Anzi sotto l'arco del tp Sono sopra la mia base Ah Ok Buona fortuna Good luck Good luck si dice no? Good luck si dice Dove sei? Non te lo dico Ma sei nella tua base Merda Non sono nella mia base Sto tornando Tanto io c'ho tutto il distracto infinito Oh Ok stavo morendo Ender pirla Guarda che l'ho missata Ho missato No ce l'ho ancora Ok no Cazzo Ma tu non muori? Io sono andato a te T'ammazzo Ora è arrivato il momento che t'ammazzo Un momento in modo che t'ammazzo Visto come sei morto te Ma in questo momento Questa cosa non ci voleva per niente Questa cosa non ci voleva per niente Z Questa cosa non ci voleva per niente Tu dove cazzo sei? Dove cazzo sei? Adesso senti il rumore dei tuoni Eccolo qua De Mark Eccolo qua De Mark Ciao De Mark Dove sei? Sono l'isola rossa io Vediamo se ti becco col distracto Becco continua a morire Dove sei? Sono nel loop infinito di morte Non hai la Ender per salvarti? Ti sei salvato No ti sei salvato Che sbatto Dove sei? Dove sono? Dove sei te? C'è l'arco del tipi nella tua base Dico solo questo Dove sei te? Nell'isola tra i tuoi blocchi Sei uno schifo abominevole Perché? Mi ha rotto la bedrock In realtà è tutta rotta Cazzo son caduto Merda Merda Volevo usare le Ender per tornare a casa Oh god È tutta rotta la bedrock da te Ma io non so come muovermi Non posso neanche Settare uno spawn più in alto Perché? Io non posso Ah ok E se ti uccido subito? No non uccidermi La facciamo finita? La facciamo subito finita Cosa ne dici? Ma se non è andato Non riesci a venire su questa isola BASTA Ma dove cazzo sei? Ma vaffanculo Non ho più un'isola Oh mio dio Uè Marco allora? Non posso più far niente Perché? E continua a morire Allora mi metto in creativa e ti metto la bedrock No uccidi i marchi Basta No 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 Non esiste Sto soffrendo Sei morto Fly is not an able Non si credo no No Oh mio dio che partita infinita No vecchio no Non è vero Tetto di estratto di merda infinito E questo è quello che porta Vabbè Intanto tu hai trovato più bedrock di me praticamente Minchia con notto di estratto infiniti avevi Vabbè ma la bedrock non la puoi togliere con il distractto Vabbè Comunque ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video domani alle 18 Sempre la pixelmon Bella Ciao Ciao Ciao